Ragazzi, folle, gran premio, folle. Io adesso sto rimettendo qua now, ma non funziona, devo aspettare qualche minuto. E allora sapete che mi dico? In caso succedesse qualcosa mi apro l'app Sky Sport, ragazzi. Leclerc, Charles, Charles, Leclerc, è attualmente in test, ragazzi. Leclerc, perfetto, clamoroso, ragazzi, dopo la ripartenza. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che gran premio, che gran premio, che gran premio, che gran premio. Ragazzi, mamma mia, mamma, mamma mia. Veramente che gran premio di inizio. Una McLaren, inizierei anche da quello, veramente in difficoltà, che non sa che cosa fare, ragazzi. Non sa che cosa fare, Norris, che praticamente, se non sbaglio, è tipo nelle ultime cinque posizioni. Quindi, clamoroso, clamoroso, ma fatto sta Leclerc, Verstappen-Sainz, il podio attualmente, e con due rosse a impaninare, con Sainz che ci ha riprovato, ragazzi. Questa volta non da Sainz, ha provato a superarlo, non ci è riuscito, ma va bene così. Leclerc, attualmente in prima posizione, secondo me ce la può fare, ragazzi. Ce la deve fare, ce la può e ce la deve fare questa volta. Riporterebbe la vittoria alla rossa dopo il GP di Singapore. Sì, il GP di Singapore del 2019, dove vinto da Sebastian Vettel, l'ultima vittoria anche proprio di Vettel, sia con la Ferrari che proprio in generale, l'ultima sua vittoria. Ma fatto sta, ragazzi, che sono contentissimo. Il primo Grand Prix della stagione, veramente bellissimo, è ancora, non c'è disponibile. Allora, sapete che vi dico, modo illegale, si utilizzano i siti tarocchi, ragazzi. Mi è arrivato stamattina, non vi nego che prima usavo i siti tarocchi. E allora, da bravo esperto, si può ricominciare. A parte gli scherzi, Leclerc, che ha fatto una gara perfetta, ragazzi, perfetta. Charles Leclerc, Charles Leclerc, è tornato, ha fatto una grandissima gara. Ma adesso rimane l'ultima i pezzi da gestire. C'è stata una lotta di tre giri, in cui si superavano in curva 1. Leclerc o Verstappen poi riusciva a tenere in curva 4 e si chiudeva tutto, dopo il sorpasso nel rettileno. Veramente, mamma mia, ragazzi, che inizio di Formula 1. Quest'anno sono veramente hypato. E spero che lo siate anche voi. Adesso ci vediamo in diretta, live, sulla piattaforma Viola, per parlare di questo Gran Premio, per andare a parlarne. Vi ricordo che sulla piattaforma Viola mi chiamo Calcio Puro. Calcio, trattino basso, puro. Ma adesso rimangono gli ultimi non so quanti giri. Penso tre o quattro giri da goderci. E allora, andiamo, ragazzi, andiamo. Io sono rimasta all'inizio del 52esimo giro. Non sapevo che Nauti V facesse così quando ti scolleghi all'uno. Pensavo fossi istantaneo come Dazon e invece non è così. Fatto stare, ragazzi, che sono veramente contento. Un grande inizio col campione del mondo contro uno dei suoi rivali, ragazzi. Perché oggettivamente sappiamo che è sempre stato un rivale di Leclerc, Verstappen e viceversa. Si erano buttati già fuori nei card. E già quello la dice lunga. Una veramente oggi grandissima ass Kevin Magnussen. Che attualmente, quando ho lasciato io, era settimo. Kevin Magnussen che è tornato e ha fatto una grandissima prestazione. Schumacher che era rimasto dodicesimo superato appena da Alonso. E il fatto sta che, purtroppo, ragazzi, non funziona. Bisogna aspettare qualche minuto Nauti V. Io ti adoro now. Il fatto sta che sono veramente triste di questa cosa perché non la sapevo. Ma comunque, la rossa ha fatto una grandissima prestazione. Pit stop perfetti. Una cosa che non mi piace, ragazzi. Perché onestamente non mi piace vedere sempre macchine fermarsi. Ecco qua. C'è Leclerc, Sainz primo. E Verstappen che gli è successo. E tredicesimo. Leclerc è primo. Leclerc, ragazzi, è primo. Terzo Perez. Ma attenzione. Con Magnussen sesto. E Verstappen che si ritira. Si ritira Max Verstappen. Colpo di scena. Clamoroso colpo di scena. E Schumacher che è attualmente dodicesimo, purtroppo. Non è a punti, ma si ritira Verstappen e doppietta Ferrari. Doppietta Ferrari se dovesse finire così. Doppietta Ferrari, signori, non lo sapevo questo. Rivediamo qua cos'è successo. Carlo Sainz mi sa che ha setacciato... Proprio l'ha mandato a fare in culo. Ecco qua. Da questa camera si vede benissimo che è successo a Verstappen. L'ha superato proprio. Non è per quello che si è ritirato. Non so perché si è ritirato. Ma ha fatto stare ragazzi che Verstappen si ritira. Gaslick è andato a fuoco e ringrazio perché fa vincere alla Ferrari. Ragazzi, 56esimo giro. 56 Leclerc perfetto. Perfetto ragazzi in tutti i settori, in tutta la gara. Perfetto. Veramente gara incredibile da parte di Charles. Gara incredibile da parte di Charles Leclerc. Ma ha fatto stacchi adesso. Qua c'è Lewis Hamilton che vuole attaccare Perez per prendersi una posizione. Ma sappiamo che Perez non è assolutamente un pilota che si lascia sfuggire le posizioni. E l'abbiamo visto l'anno scorso a fine anno con settimo. C'è Valtteri Bottas che era partito sesta. È arrivato 14esimo all'inizio della gara. E poi ha fatto una risalita della Madonna. Detto chiaro e tondo. Ha fatto una risalita della Madonna. E anche Joe. Yuan Yu Joe ha fatto veramente una grandissima gara ragazzi. Di tutto rispetto. Ha anche superato Hamilton. Ma veramente strategia sbagliatissima. In casa Mercedes abbiamo visto che quest'anno rende meno del solito la hard. E quindi hanno sbagliato tutto. Perché hanno messo la hard sia con Hamilton che con Russell. Manco a dire un piccolo esperimento con Hamilton. Vediamo se va. No, proprio no. Hanno deciso di metterla entrambi. E Hamilton abbiamo visto fin da subito un bloccaggio. Perché poi quest'anno i copricerchi, i coprigomme sono a 70 gradi. Prima erano a 120, quindi adesso la gomma è ancora più fredda. E bisogna riscaldarla. Infatti poi nel rettilineo dopo ha preso giù. Ma vabbè era anche abbastanza palese. Poi ha iniziato a riscaldare la gomma ragazzi. Riscaldare la gomma durante il Gran Premio. Senza che ci sia la safety car. E allora, amici della Ferrari. Signore e signori. Final lap. Ultimo giro. Con le clerche Sainz primi. Sainz a 5 secondi. Da Charles Leclerc. Che attualmente è il primo. E ad ora. Tutti calmi. C'è... Oh, 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 Perez. Si gira. Si gira Perez. Si spegne la macchina. Colpo di scena Perez. Perez si è spento. Si è spento Perez. Perez out. Zero punti per la Red Bull. Colpo di scena. Hamilton a podio. Hamilton a podio. Che è successo qua alla macchina? Voglio capire. Si gira Sergio Perez e si spegne. Si spegne la vettura pericolone in pista. È safety car. Allora è safety car con Charles Leclerc. Che va verso la vittoria. Non mettono neanche la safety giustamente. Perché siamo all'ultimo giro. Bandiera è gialla e basta. E allora Hamilton a podio. E alla fine non è andata neanche così male. Allora Mercedes con quinto Kevin Magnussen. Ritrova i punti. Dopo un sacco di tempo il team Haas. E allora arriva a punti anche Joe. Peccato volevo vedere Schumacher. Ma allora signori amici della Ferrari. Se non sbaglio questa è l'ultima curva. Signore e signori. Ragazzi e ragazze. Amici della Ferrari. Tifosi della Ferrari. Tornate a gioire. Per Charles Leclerc. Ultime curve. Charles Leclerc vince. Il gran premio del Bahrain. Ma completa una dubbietta. Carlos Sainz. Secondo. Vince. Il gran premio del Bahrain. La Ferrari. La Ferrari. Lo vince lui. Lo vince dominando tutta la gara. Lo vince soffrendo solamente tre giri. Lo vince con una gara. Una strategia perfetta. Da parte della Ferrari. Carlos Sainz. Secondo. Alle sue spalle Hamilton. Russell con Magnussen. Bottas. Che sono quinti e sesti. Bottas meglio dell'anno scorso. Charles Leclerc vince. Doppietta Ferrari. E allora ci portiamo i primi punti a casa. Ma che dire primi punti. I primi 42 barra 43. Ho fatto il cancro mentale mentre che dicevo. 42 punti se non erro. Per la Ferrari. Che si porta prima nel campionato scuderie. E nel campionato piloti. E possiamo dirlo. Dopo il 2018. Per la prima volta. La Ferrari. La rossa di Maranello. Ritorna. Prima in classifica. Sia. Non so. Non mi ricordo se era il 2018. Era prima anche nel costruttori. Ma un pilota a Monegasco. Prima volta per lui. Leader. Della classifica piloti. E Carlos Sainz. Grandissima gara da parte sua. Gara di gestione. Carlos Sainz secondo. Charles Leclerc vince. Il gran premio del Bahrain. Clamoroso ragazzi. Forza Ferrari.